Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, la mamma di Giulia Salemi contro il reality, volevano farla fuori Fariba, furiosa contro il reality show dopo leliminazione della figlia, attacca la produzione del Grande Fratello Vip. Ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppia eliminazione a sorpresa che ha visto uscire dalla casa di Cinecittà la bella Giulia Salemi, la quale è stata punita dalla produzione dopo il confronto della scorsa settimana con sua mamma Fariba. . In pratica, infatti, la produzione del GF Vip non ha gradito che Giulia si sia scambiata delle informazioni con sua mamma parlando in persiano e quindi impedendo al pubblico italiano di capire cosa si stessero dicendo. . Per questo motivo Giulia è finita in nomination diretta ed è stata fatta anche fuori, ma sua mamma Fariba non l'ha presa bene. . Video. Giulia Salemi eliminata dal GF Vip, la mamma sbotta sui social. . 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